Siamo in un luogo unico per la posizione e le storie che racchiude. Da qui sono passati tutti i popoli che hanno dominato il Mediterraneo e in particolare una figura senza tempo, antica quanto attuale. Dalla natura al relax, dalla storia al divertimento, qui possiamo incontrare ogni desiderio. Il sole nasce da popoli vicini e accarezza i segreti della nostra costa. Per entrare nel mito, guardare per credere. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.